Egregio Signor Presidente, mio caro amico Sergio Matarela, cari amici italiani, in qualità di Presidente della Repubblica di Slovenia e a nome di tutto il popolo sloveno, desidero esprimervi la nostra solidarietà nella lotta comune contro il coronavirus. Manifestiamo la nostra profonda ammirazione per il popolo italiano che in questo momento difficile sta dando una grande prova di determinazione, coraggio e speranza. La Slovenia sente la vostra tristezza e prova gioia per i vostri successi. Impegnandoci insieme alle altre nazioni europee ne usciremo vittoriosi. Andrà tutto bene.